Cari amici di Metro Giuliacci, eccoci qua! Un novembre dei tanti volti, dei tanti colori, un novembre che probabilmente ci farà assaggiare la prima irruzioncina di aria fredda nel weekend che scivolerà dai Balcani verso il versante Adriatico, al sud con vento forte, mari mossi, molto mossi e agitati. Ma questo nel weekend. Intanto una discesa di aria meno calda che farà abbassare le temperature per fortuna dopo l'impennata sull'arco alpino, ma farà aumentare di contro le temperature sulle pianure. Quindi stop a l'inversione termica, rimescolamento dell'aria e aumento un po' delle temperature che si porteranno localmente anche attorno ai 18-20 gradi. Questo sulle pianure del nord, ma con tempo buono, sereno o poco nuvoloso. Al centro, nuvole in aumento nel corso del pomeriggio con qualche rovescio di pioggia. Vedete che tenderà a guadagnare terreno verso fine giornata anche sulle regioni meridionali. Tuttavia, al centro già si avvertirà un primo calo della temperatura, al sud solo verso fine giornata. Farà in tempo la temperatura a schizzare verso l'alto con dei picchi tra Materano e Tarantino anche attorno ai 27-28 gradi. Questa è la previsione per la giornata di mercoledì. Ci riaggiorniamo presto. Vedremo come andrà poi nel weekend con questa prima eruzioncina di aria più fredda. Arrivederci.